Bentornati ragazzi, io sono il giocatore di vuoto e finalmente siamo andati su Dark Souls dopo questo episodio di Outland E siamo qui, pronti ad andare avanti, a spaccare un po' di culi e soprattutto ad andare ad affrontare i quattro fottuti re Pregando Dio che non mi uccidono prima Allora Comunque ragazzi, che bello di essere ritornati a fare episodi continui E' stato un periodo un po' difficile per me questo E' un po' un periodaccio purtroppo Però, oh, almeno se ho tornato a fare i video L'importante è quello Alla fine Allora, di questo essere comunque Tornando ad essere leggermente seri Ce ne stanno solo due in tutto il gioco Solo due E non respawnano Vediamo un po' che c'è uno un po' di culo Col cazzo Vabbè Eeeh Allora, comunque ho deciso Che qualunque serie io faccia Io la continuo a prescindere dalle visual Perché La rega Eeeh Se no non dovrei più far video Praticamente E' così Ah, e andando per di qua A proposito Si trovano Si trova una cosetta Parecchia interessante Sempre se non ho sbagliato Strada Eeeh Ah no, ecco E' per di qua Qui si trova Il tizzone Per portare Le armi A più 20 Se non sbaglio A più 20 Sì O più 15 Oddio Qualcuno mi corregga Per favore Eeeh Penso di aver fatto Una gaff Anzi Quasi sicuramente Ho fatto una gaff Oh porca valetta Vabbè Vuoi dire Sì Famo prima O qui O più 15 O più 20 Al momento Mi sfugge Eccolo qua E se non ricordo male Questo E' il primo Trofeo Che ho fatto Su PS3 Per le armi E' il bello E' il bello E' che poi Non l'ho più preso Fino a qualche run Fa Perchè mi era Completamente Scordato Della sua Sistenza Bello E se qualcuno Se lo sta chiedendo Sì Ho una memoria Di merda E' normale Fidatevi Ho la memoria Di un Pesce rosso In una boccia E no Fidatevi No E che cazzo Mag Oh ma Oh ma Sono rimasto Incastrato Bene 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 Comunque Quella cosa Che fa con la Col braccio E io sono Un deficiente Mi succhia L'umanità Mi fa perdere L'umanità Bello eh E Ve la può anche Droppare Questo è il bello La mano Oscura Mentre nel Dark Souls Originale Non ve la Troppa La devi prendere Da Dal serpentone Primordiale Se no Va attaccata Al tramve Molto Semplicemente Bella L'estetica Del mio Personaggio Comunque Stupenda Mamma mia Porca Paletta Che schifo Comunque 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 Perché Non è esattamente Una boss Facilissima Anzi Direi Tutto Il contrario Comunque Per prima cosa Per andare Da 4 ore La cosa La cosa importante Che abbiate Picoggiato Il patto Di Artorias Che prendete Da Sif Perché Se no Vi inghiapettano Alla grande Nel senso Che vedete Nell'abisso E Vaffangu Morite Malamente La 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 Ah E poi E poi E poi Una cosa importante Un avviso Per Diciamo Un mio vecchio Amico Diciamo Che mi ha dato Un po' Di problemi Questi ultimi tempi Vedete Fai i tag Miei Guarda i tag Miei Fateli Cazzi Tu Ha proprio Detto Col core Paco Perché sei tu Lo so Che sei tu Tranquillo Guarda il canale Tuo Per favore Mi se ne rompe Le palla a me Grazie Sicuramente Non vedrai Questo video Lo so Perché Sei un pezzo De merda Però Sentar Non nuoce Si dice Ti muovi Testa Di cazzo Grazie Molto Gentile Anzi no A me Manco So Guardo Guardi Sto video Almeno Non rompi Le palle Piena cosa Che non sono Nemmeno Che ho fatto Sì Scusate Ragazzi Un piccolo Fuoco Adesso Tu Forza Muori Perfetto Era tanto Difficile E mi ero scordato Che ce n'era Uno qui Evviva Backstab Perfetto Ora 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 Mi dovrei Prendere Le anime Eccole qua Quante ce ne avevo Minchia Ok Andiamo Verdi qua Attenzione Qua C'è Sound Dark Right Muori Dove Farmi La prima Lezione Transitoria Adesso Però Ne sono Più che Costretto Praticamente Ah e Per di qua Ci sta Un pezzo Di Dinanite Se non Erro Lì Anime Le Valoroso Ma Lezione Transitoria E Ora Maledette Stronze Mori Dall'inferno Malamente Ok Muori Perfetto Pesto Dinanite Non mi Serva Niente Però Accidenti Sto Coso Rallenta Più Del Fatroll Dai Dai Liberate Liberate Testa Di Cazzo Oh Perfetto Attenzione Questi Esplodono Perfetto Ok Ne manca Un colpo Sole Andato E Boom Adesso Qui Se non ricordo Mal Dovrebbe Esserci Un altro Dark Raid Eccolo Qua E un altro Backstab Backstab Il mio Italiano Perfetto Magari Negate Magari No Ovviamente Ma che Scherziamo Certo Troppano Più De Quelli De Dei Personali Dei Mob Di Dark Soul 2 Cioè Non c'è Stava Paragone Però E ripeto Ragazzi Se volete Una serie Su Dark Soul 2 Fatemelo Sapere Qui Sotto Ai Commenti Perché Io Si La farei Molto Volentieri Ma Senza Un minimo Di Incoraggiamento Diciamo Non viene A nessuno La voglia Di Fare Video Ma che Dite Ecco Col patto Di Artorias Possiamo Andare Tranquilli Altrimenti Cadremo Giù Nell'abito Come Emeriti Coglioni La Tattica Giusta Per affrontare Quattro Ore E Stargli Più Possibile Vicino E Ovviamente Cercare Di Scansare Le Maggi Che Lanciano Ok Ci siamo Quasi Olè Ecco a voi L'abisso E Adesso Lo sta Mi muto A dopo L'abisso D'accidenti Quasi impossibile Vi dar sta presa Bene così Dai Stiamo circa a metà vita Ah e tanto per la cronaca Non sono quattro Durano finchè Non gli facevi Togliere tutta la vita Sarebbe stato troppo bello in effetti Che fossero stati solo due tre Quattro cioè scusate Olè Perfetto Forse il prossimo è l'ultimo Forse il prossimo è l'ultimo Apparisse Eccolo Dai Che palle Ovviamente La presa è da evitare Tanto per Eh vabbè Vaffanculo E sto due di fila Dai Lasciami Schifoso Bastardo Maledetto Fortunatamente Vi danno il tempo Di curarvi Andati Andati Wuhuuu Quattro re Caduti Ed ora Eccolo lì Grandissimo Il palo è stato acceso Vieni da papà Cat Eh è lui Mi ricordo mai il nome Sì Sì Vabbè Vabbè Blablabla Blablabla Sì Se ne andassi a fanculo con l'altro Sì 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 Come dici tu Mettiamo il tizzone Questa scena la lascio Comunque devo ammettere che è stato più facile Con l'armatura pesante La stabilità è una grande cosa Adesso si aprono le altre porte Questa di Nito Questa di Sith The Sith E la culla del caos Che mi parà bestemmiare come non mai Bene così Ora Sì Blablabla Blablabla Bene così Però che schifo Dai Sì 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 Stringivato Eccolo qua Il patto dell'abisso Signori Questo volevo La mano oscura Ok Ciao ciao Kat Sarà un piacere Ma ce l'ha più 5 io l'arma Manco mi ricordo Ripeto Ho la memoria di un pulcino Di un Che cosa La 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 Di un pesce rosso Quindi non Meravigliatevi Sì sì Tutto a più 5 Ottimo Ottimo Avanziamo un po' di livello Perché tanto La roba ce l'ho 30 vitalità 30 La 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 Fiamo stamina va Ecco Bene così Mi ritrasporto A stanziare le megamelle Il fuoco E poi andremo Agli archivi Del duca Dove Si aspetterà Quasi l'ingresso Del dlc Ragazzi Io vi ringrazio Per la visione Grazie Per la visualizzazione E quant'altro Vi invito A iscrivermi Al mio canale A lasciare un mi piace Se volete Ovviamente Dal vostro Dove le rivoli è tutto Ciao a tutti